20 anni di affari e politica partendo da Mani Pulite fino a Mafia Capitale. Sarà questo il tema portante dell'incontro in programma domani a partire dalle 18.30 in piazza Celestino V a Isernia. Questo periodo della storia recente italiana sarà analizzato dai giornalisti ma anche da alcuni dei protagonisti di quell'inchiesta che decretò la fine della Prima Repubblica ma non della corruzione. Abbiamo scelto come argomento Mafia Capitale e Mani Pulite. L'idea è di mettere a confronto queste due inchieste per cercare di capire quali sono i punti in comune e quali invece le differenze. Sarà anche l'occasione per vedere come è cambiato il modo di fare il giornalismo dagli anni 90 ad oggi. Lo faremo con Antonio Di Pietro, ex PM di Mani Pulite, Maurizio Grico che era a GIP nell'ambito della stessa inchiesta e con Enzo Jacopino, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti. L'incontro dibattito è stato organizzato dall'Associazione Culturale Francesco Casale nata per ricordare il collega Isernino scomparso prematuramente ma anche per proporre eventi culturali e momenti di riflessione. È un anno che ci siamo costituiti ufficialmente nel ricordo del nostro amico e collega che è scomparso improvvisamente due anni fa ed è sempre quella voglia che ci spinge, quella che ha fatto sì che costituissimo questo gruppo. Siamo quasi tutti giornalisti, la voglia è quella di ricordare Francesco ma anche di promuovere dei piccoli eventi di grande valenza che diano il segno anche della dignità della nostra professione, quella giornalistica. Quindi cerchiamo sempre di invitare ospiti di rilevo nazionale, di parlare di argomenti che possano offrire gli spunti di riflessione importanti.